Sindaco Pascale, si rinnova la cerimonia di Santa Restituta come ogni anno, quest'anno tra l'altro in una location insolita, nella piazza invece che nella chiesa. Sì, io credo sia stato bellissimo, anche se costretti perché il santuario di Santa Restituta, come tutti sanno, è oggetto di lavori di ristrutturazione. Però con la giornata di oggi, con il fermento, la devozione che il popolo di L'Acquamino e dell'Isola Dischi hanno verso Santa Restituta, credo sia stata bellissima. Una cerimonia che come sempre emoziona i lacchesi ma non solo. Eh beh, certo, Santa Restituta è molto sentita, Solisa è la nostra patrona, unitamente a San Giuseppe della Croce sono due appuntamenti importantissimi che richiamano un sacco di fedeli. Poi Santa Restituta come festa da noi è anche qualcos'altro che va al di là della fede perché di fatto apre la nostra estate turistica e quindi ci sono molti turisti che vengono apposta, soggiorno a Ischia per questi giorni di festa, per la sagra rappresentazione che è stata messa in scena ieri sera dai giovani di L'Acquamino nella bea di San Montano. È una festa effettivamente che per noi significa tante cose insieme.